Mi affaccio a te far vedere la discoteca La discoteca Dottore, le posso rubare qualche minuto in video sulla sua storia? Non mi ricordo mai... Event Direction! Meraviglioso! Il mio tema può essere doppio Il mio tema può essere doppio Mi chiamo Vanni Zagnoli, racconto su YouTube magari lo faccio anche per Sports Senators che è la testata di Martucci e la sua storia, da una parte, se vuole o quello che leggo cosa c'è dietro, insomma, a dirigere un evento Eh, ma adesso io sono morto Mi faccia questa storia Ma già... Andando a dormire Tre minuti... Quello, no, se preferisce la sua storia Tre minuti sulla sua storia Come prefer... Quale prefer... Io, se devo scegliere... No, allora faccio...